L'energia creativa di questi musicisti è enorme. Ve li annuncio, ve li ricordo, li chiamo qui sul palco alla batteria Hamid Drake, al contrabbasso Rosario Bonaccorso, alla trastiere, alla disarmonica Antonello Salis e Stefano Cocco Cantini, al sax e anche al pianoforte. Grazie, buon ascolto, Great Cat Festival. Grazie a tutti. Allora, un caro saluto agli amici di backstage. Stasera siamo qui a Maria di Grosseto, a Forte San Rocco, un posto spettacolare, con un gruppo internazionale, che a me piace molto, con Hamid Drake, la batteria, un batterista di colore di Chicago, un grandissimo batterista, con Antonello Salis, che è nero quanto lui, anche se è italiano, è sardo, Rosario Bonaccorso e io, molto bianco, come vedete, al sasso. Questo progetto è nato tre anni fa e diciamo che spazia nella musica senza limiti. Noi ci ascoltiamo, abbiamo delle linee in guida e poi da lì partiamo verso il nulla, che è per un artista una cosa fondamentale. Quindi vi auguro chi c'è, vi auguro un bel concerto, magari vedrete delle macchine belle, fatte d'annunzio. E niente, me lo do da solo. Buon concerto. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti